Femminicidio la notte scorsa a Caltagirone. Un 53enne, Salvatore Pirronello, ha colterato la convivente di 47 anni, Patrizia Formica, e poi si è costituito nella caserma dei Carabinieri, confessando il delitto. L'avrebbe uccisa intorno alle 5 con 4 colpi di coltello, mentre la donna dormiva nella loro letto matrimoniale, cogliendola di sorpresa. Non si conosce ancora il movente e lui avrebbe detto di essere stato preso da un raptus omicida. Il delitto è venuto nella loro casa in via Palatini, nella rione Balatazze, dove vivevano da soli da alcuni anni. Entrambi uscivano da matrimoni finiti con la separazione. La donna aveva avuto due figli dal marito che non vivevano con lei. Pirronello aveva un precedente penale per rapina quando aveva 17 anni. Fece parte del gruppo di 4 banditi che il 30 dicembre 1981 assalirono l'autobus di linea Catania-Palermo, uccidendo l'autista Giuseppe Savarino e l'avvocato Enzo Auteri, che era stato presidente della provincia di Catania. Per il dublice omicidio furono condannati l'esecutore materiale e un suo complice. Pirronello e un altro 17enne furono processati soltanto per rapina dalla Tribunale per i minori di Catania. Noi insieme appassionatamente l'ultimo post pubblicato ieri sera sul proprio profilo Facebook da Patrizia Formica. La giornata, meteorologicamente, non era cominciata bene, ma non era importante per lei, che scrive Buongiorno a tutti, fuori piove e chi se ne frega. Io ho il sole dentro, le persone che amo sono accanto a me. Può anche arrivare il diluvio. Io mi sento al sicuro. Buona domenica a tutti. Per poi aggiungere, noi insieme, bellissima domenica e il pomeriggio continua in compagnia delle persone a cui voglio bene. Post accompagnati da foto e filmati della coppia, parenti e amici. Fino a conclusione della domenica, bellissima giornata, trascorsa in ottima compagnia e all'insegna del divertimento assoluto. E poi l'ultimo post, noi insieme appassionatamente.